Un pozzo dei desideri è più o meno questo per gli archeologi di tutto il mondo il sito di Sakkara, un'area archeologica da cui continuano a venire fuori i reperti di valore inestimabile. Come gli ultimi 50 sarcofagi, da poco scoperti un vero e proprio tesoro, come lo ha definito il Ministero delle Antichità Egizie, precisando che tra le scoperte c'è anche un tempio funerario. Nel 2010 abbiamo trovato la piramide della regina, ma non sapevamo il suo nome. Ora abbiamo scavato il suo tempio funerario e abbiamo trovato una tavoletta all'ingresso, con il suo nome inciso, Naert. Questa è la prima volta che viene scoperto il nome e la storia della regina. La regina Naert era moglie di Teti, il primo faraone della Sesta Dinastia dell'Antico Regno d'Egitto, databile all'inizio del XXIII secolo. I sarcofagi in legno, che invece risalgono al nuovo regno, sono stati trovati in 52 pozzi funerari, a una profondità compresa tra 10 e 12 metri. Nel corso degli scavi sono state trovate anche le tracce di tre magazzini in mattoni. All'interno dei pozzi c'erano bare e mummie. Sono riemersi manufatti unici, ad esempio un papiro lungo circa 5 metri. Abbiamo trovato statue importanti e oggetti con cui giocavano gli antichi egiziani e ancora un'ascia appartenuta a un soldato. Tutte queste scoperte riscriveranno la storia di Saqqara e del nuovo regno egizio.